Sei preoccupato sinceramente? Ma no, perché sì è vero che è un momento delicato perché non riusciamo a vincere da tre giornate ma oggi l'appiglio della squadra, almeno io che il primo tempo l'ho visto da fuori, è stato ottimo abbiamo creato, abbiamo messo sotto il campo basso, abbiamo segnato, credo di aver capito regolarmente il primo tempo abbiamo avuto un'occasione, il rigore è sbagliato ma la squadra era viva e dava segnali solo di poter vincere questa partita, purtroppo l'espulsione di Ricciardo ha cambiato un attimo i piani, quando mancava mezz'ora alla fine purtroppo è finita 0-0 La traversa, il gol annullato regolare, diverse chance, poi è salito anche il campo basso insomma il calcio di rigore e l'espulsione che hanno cambiato Beh, ci si mette tutto, abbiamo sviluppato bene la partita, l'atteggiamento come dici te è stato giusto ci teniamo stretto questo punto, perché comunque nel secondo tempo abbiamo comunque giocato in dieci e andiamo avanti, adesso bisogna cominciare a vincere e serve appunto vincere però con questo atteggiamento e con questa compattezza vedo bene e andiamo avanti Bisogna assolutamente mantenere la calma e la lucidità e basta, adesso prepariamoci, rientriamo, prepariamo bene la partita con Montegiorgio perché bisogna vincere